Dopo questo incontro Renzi-Merkel, l'Italia ha maggiore credibilità in Europa oppure no secondo il Movimento 5 Stelle? A me Renzi, lo dico veramente con il massimo rispetto, mi sembra come Fantozzi che prima di entrare nell'ufficio del mega direttore galattico dice oggi mi sente, poi appena entra il mega direttore galattico gli dice si segga ma la sedia non c'è, seduto e si siede. Che cosa abbiamo ottenuto? Io l'ho ascoltato negli ultimi due anni e ripetere, non lo so, centinaia di volte questa frase, abbiamo bisogno che l'Europa torni ad essere più pulita, che torni ad essere più giusta, che vi sia più competitività, che vi siano più investimenti, abbiamo bisogno che l'Europa torni, ma questa Europa è tornata o non è tornata ad essere tutto questo? Perché lui governa da due anni. Renzi come dal mega direttore galattico, però ci sono quotidiani tedeschi che oggi hanno detto di Renzi un osso duro, riconoscendo, attribuendo anche una certa autorevolezza al presidente del Consiglio italiano o no? Sì, a me sembra questo un grande gioco mediatico, insomma i tedeschi sono contenti di Renzi perché gli crea poche difficoltà e Renzi qua parla e alza la voce, fa credere appunto all'opinione pubblica italiana che lui sia il presidente capace appunto di battere i pugni sul tavolo della Merkel. Io mi domando, la domanda che si devono fare i cittadini italiani, è vero o non è vero che negli ultimi dieci anni, e ancora di più durante il governo renziano, ci hanno tolto dei diritti dandoci in cambio dei bonus e ci dicono pure di stare zitti, cioè abbassate la testa, ringraziateci perché vi stiamo dando un'elemosina di Stato, il Jobs Act è l'elemosina di Stato, il bonus 80 euro è l'elemosina di Stato, il bonus agli insegnanti, il bonus ai giovani, ti tolgo il lavoro, ti spingerò affinché tu possa abbandonare l'Italia perché non c'è lavoro, però ti do dei quattrini adesso. Ecco, io credo che complici soprattutto il governo Renzi ci hanno abituato a ringraziarli per un'elemosina quando invece dovremmo stare orgogliosi a testa alta a rivendicare diritti, quelli che non abbiamo da tanti e troppi anni. Eppure dalla cancelliera Merkel c'è stato un importante endorsement, la Merkel ha detto che Renzi sta portando avanti un'agenda ambiziosa passo passo, bene ad esempio il Jobs Act. Beh sì, il Jobs Act è stato poi imposto soprattutto dal più grande potere finanziario nord europeo, è una legge che non crea posti di lavoro minimamente ma ha monetizzato un diritto che è il diritto al lavoro. È evidente che la Merkel sia contenta di questo contratto e sono contratti che in Germania potrebbero anche andare bene, d'altro canto c'è una produzione industriale molto importante, le fabbriche non chiudono. Ci sono anche delle tutele nei confronti di si occupati, progetti di reddito di cittadinanza che noi non abbiamo. E Renzi che continua a fare il compitino però qui in Italia complice un sistema di informazione, salvo rare eccezioni, totalmente asservito al Presidente del Consiglio. Fa che il Presidente del Consiglio alzi la voce, stia battendo i pugni sul tavolo, quando va lì riceve i complimenti dalla Merkel, insomma evidentemente sta realizzando i compiti come gli sono stati richiesti. Un altro punto in discussione in questo importante incontro di oggi tra Matteo Renzi e Angela Merkel era quello sui migranti. Ci sono posizioni distanti e a rischio Schengen, il Movimento 5 Stelle cosa propone su questo tema? L'Europa dice che occorre dare più risorse alle emergenze migranti. Contestualmente noi viviamo in un'Italia che si sta per l'ennesima volta piegando allo strapotere degli Stati Uniti e sta probabilmente per intervenire in Libia, come sempre con le bombe. la stessa Italia che continua a vendere bombe a paesi in conflitto. Cioè più venderemo bombe, più investiremo in armamenti, più faremo guerre, più porteremo avanti anche obrobri, anche giuridici come il concetto di guerra preventiva che è stato portato avanti dalla Nato negli ultimi anni e più verranno prodotti i migranti e quindi chiederanno maggiore risorse agli italiani che già sono distrutti appunto da vent'anni in cui ci hanno fatto perdere giorno dopo giorno i nostri diritti. Quindi il Movimento 5 Stelle dice no all'intervento in Libia che secondo il New York Times sarebbe prossimo in una coalizione formata da Stati Uniti, Italia, Gran Bretagna e Francia? Cioè la Libia è a poche centinaia di chilometri da noi, pensiamo di risolvere ancora i conflitti bombardando con interventi da terra, non c'è bastato l'Afghanistan, non c'è bastato l'Iraq, non c'è bastato bombardare la Serbia, Belgrado, non c'è bastato la Siria come è stata gestita negli ultimi anni, non c'è bastato la stessa Libia, insomma bombardamenti avallati di fatto. Ci siamo piegati sotto il governo Berlusconi ai dittat degli stati di America, della Francia e di Napolitano che ha sempre fatto il loro gioco e mai gli interessi del popolo italiano e oggi continuiamo ad andare dietro perché siamo abituati ad essere sudditi, si è visto anche con la vicenda delle statue. Questa è l'ennesima dimostrazione da parte dei governi italiani di una sorta di atteggiamento ontologicamente suddito nei confronti di chiunque venga in Italia. Realpolitik, io vorrei un paese forte, un governo forte che sia capace al puntista politico e diplomatico a influire sulla creazione di un governo di unità nazionale in Libia che possa questo governo espellere appunto le frangi dei terroristi all'interno del paese, questo non ci siamo riusciti perché non abbiamo un peso diplomatico e si vede anche col caso dei Marò e una volta che dimostri non avere il peso diplomatico ti accodi appunto all'ultimo padrone di turno e che per tanti tanti anni rispetto all'Italia si chiamano Stati Uniti d'America. Come combattere l'avanzata dell'ISIS anche in Libia? Dove l'ISIS controlla i territori non ci sono fabbriche di armi, quindi si deve che qualcun altro gliele vende. L'ISIS continua a fare affari sull'opera d'arte, sul petrolio, con paesi che pubblicamente attaccano il terrorismo islamico ma poi sotto banco ci fanno affari. Fino a che non si affama, non si taglia un legame economico e di traffici economici con il terrorismo islamico e il terrorismo islamico non verrà mai sconfitto con le bombe. Noi dati che abbiamo che da quando si è dichiarata la guerra al terrore in ambito internazionale sono stati spesi miliardi e miliardi di euro ma sono aumentate le sigle terroristiche internazionali. Sulla Nato oggi questo convegno del Movimento 5 Stelle cosa propone? Di uscire dalla Nato? Non stiamo dicendo che vogliamo uscire dalla Nato, la Nato si può modificare, è nata oltre 60 anni fa quando c'era un'altra idea anche di mondo, dei conflitti diversi, oggi sembra invece che questa Nato di oggi voglia portarci a conflitti nuovi con la Russia, noi non stiamo in conflitto con la Russia, noi vogliamo dire basta alle sanzioni alla Russia perché la Russia è un partner importante, il 5 Stelle non è né filo russo né filo americano, è filo italiano, siamo alleati degli americani ma non vogliamo essere suddite degli americani perché gli Stati Uniti d'America sono un grande popolo, un grande paese, negli Stati Uniti d'America uno come De Luca non sarebbe governatore della California, c'è una stampa molto più libera della nostra ma questo non significa che tutto quello che ci impone oggi Washington sia giusto a cominciare dal trattato transoceanico di libero scambio, il TTIP che non è corretto per la nostra economia e per l'interesse generale del popolo italiano.